la pittura l'huile è molto difficile, è molto più buo che la pittura l'huile. Buona sera, signorino. Montero? Si, si va. Se ti piace parlare di tua pittura? Montero ama la pittura, però Montero busca un mechero. Montero busca un mechero. Si, che significa? La pittura? La pittura. Eccola. Che color ti piace? Il colore? Il colore? Il colore della... Monter Poivre? E che... che ti piace piacere? Il colore. Mi piace pinta retrati al obvio di signori e signori, scrittori e scrittori. E mi piace pinta... Che puoi pinta io? Figura umana. Animali, sì, animali. Gattos. 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 Caballos. Me gusta pintar elefantes, però non lo sape. No me salen bene. Te comprendi? Te gusta la mujer elefante? Tambien. Mucho, mucho. Te gusta la mujer o la mujer? La mujer. Por qué? Mejor, te lo dice el nombre. Y por qué? Cómo se hace que tu eres un pintor? Cómo o por qué? Ese... A ver... John... Conoce usted Jean Batall? Sí. Jean Batall, en la literatura de Mas, que es un libro, bombástico y ampoulez, dice algo así que lo explica en una entrevista a televisión para quien no quiera leer el libro. Il che se dedica al arte è che non vuole lavorare Ah sì Voi le, voleva fumare e bevelo Por non dire follare La religione del pollo Si, si, che puoi dire Se ti pare importante Hacer l'amore Hacer l'amore Si Io lo dico così E perché? Perché è molto molto Inspira, dà idea Relaja Soluciona conflitto con le bonobos Ah sì Solo a le bonobos? No Todos gli animali E l'amore 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 C'è un pozzo? Si, grazie Grazie, grazie Se ha rosa Non, non, non Non, non, non Non, non, non Però non ho sento la vanguardia della mia destra Perché tu hai dovuto tradurla perché io non ho sentito lo che mi hai detto Può se Que Evangélicamente il scendolo suscita i fenomeni mesionici il fin del mondo è la vanguardia perché la vanguardia è la confrontazione la beligeranza ah sì dove sia virilla quindi è la vanguardia e perché è figurativa la tua pittura? la figura è figurativa perché perché se non io non so lo che faccio e ti pare più interessante figurativa o abstracto? più interessante buona pregunta déjeme reflexionar a la a la podemos cantar sì una cancione la pittura la luis è difficile se vi aprovo la pittura lo che che era la pregunta che che si ti ho l'olvidare la question meno male se Che vuoi dire tu? Io... Io... Io avevo diversi cose su questa questione. Per esempio... La votazione? Si, parla della votazione. La votazione? La votazione? Non, non c'è la questione. C'è importante, ma secondo. Tutto che è secondo è priorità. Una altra question? E... C'è... 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 C'è la question? 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 E possiamo traduzire la canzone in spagnolo. La pintura al olio è molto complicata, però più bella che con la guarra. No, è la pintura al olio. La pintura... Tiene che rimare. Si non è la parola musicale. La pintura al olio è molto complicata, però è più bella, ma più bella che la pintura all'acqua. La pintura al olio è più bella, ma 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 più bella. La pintura al olio è più bella.